allora no allora c'è mario no mario non nominare il nome di mario in vano e poi c'è cosa no c'è luci luci lucignolo e sono organizzati da un paio di mila anni più o meno siano organizzati così sono organizzati così dunque ma cosa lì luci niente c'è una portaccia di legno una portaccia di legno c'è scritto inferno lei si è cancellato inferno tu arrivi lui apre un cartoccio apre putta dentro una sfumarata tu chiude finito maschi femmine belli brutti ricchi poveri frega niente a lui lo apre fu dentro fu chiude posto quell'altri no 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 loro sono organizzati meglio ma in maniera diversa così hanno costruito due alberghi e infiniti delle robe dentro delle cose praticamente sono dei residence in mezzo tu arrivi su tact tranno la chiave tra maschietti da una parte femminucce dall'altra mezzo un muro di forze diciamo così trasparente due sono molto vicini però puoi toccar ma dentro c'è tutto e di residence pazzeschi dentro ogni cavolo di appartamento c'è veramente c'era veramente di tutto lì c'è pietro no aporetto che ultimamente il paio di milani l'ha messo di lì arriva su c'è l'archiviatrice l'archiviatrice che porta l'archivio l'archiviatrice quella che falcia è quella l'archiviatrice boh gli porta su tutto un archivietto due tre giorni prima gli spiega chi arriva chi non arriva ti 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 tappa che su tutta sta gente ultimamente comunque quella che archivia archivia lei archivia e gli porta l'archivio va bene quindi dice arriva stefano arriva no è il nome di battesimo genere maschio femmina e lui decide tata femmina lavoro semplice insomma ma il sabato come tanti certo punto niente pietro guarda non c'aveva tanta gente c'erano quattro gatti ma io quasi quasi stasera alle otto mi arriva su chi è simone e maria simone maschio maria femmina arrivano sti due vabbè che mi frega e sarà verso mezzano cose così verso le sette sette e mezzo al massimo e fino a mezzanotte guarda quelle ragazzine belline sono due ragazzine belline che una balla una sona non piace un tanto non faccio mica nulla però mi piace vedere loro che sono cantano balle si si tac li chiamano senti ma io stasera quasi quasi sì sì dai pietro vieni dai che contento è anche a posto a posto verso le otto arrivo arrivo su due e tranquillo puf arrivo adesso metterli tranquillo perché dovete sapere che lì per esempio cioè è un ufficettino piccolo cioè poi le post ma non tanto una piccola sala d'aspetto ma è piccoletta dopodiché per esempio c'è un telefono no per esempio se se pietro vuoi chiamare a luce appunto fa il 666 se invece vuoi chiamare a mario 0 0 e via così e insomma la lì che attendeva nel sette sette in quarto non arrivo non arrivo non arrivo ma fa vedere l'archivettrice che dice selfie questa è una trasbattata facendo un selfie porca posta no vede chi che te telefoni ma è la tua moto è stato questi saranno amici è stato sicuro mentre ha sbattuto tutti i deficienti questi mo per spiegargli il giochino niente era lì già nervoso è sette in quarto sette e mezzo sette tre tact li vedi arriva da lontano lei unnellina lui pantalone ecco senza manca alza la testa è così allora è arrivato ora è vabbè i selfie già vabbè via allora vi siete stati bravini comunque bravini e niente siete meditati qui sono due alberghi come vedete questo celeste per i maschietti questo rosa per le femminucce mezzo il muro non si passa va bene un campo di forze gli alberghi sono infiniti sono dei residenze tutto 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 io vi spiega la cosa va bene dai via adesso vedete qua facciamo una firmetta e vi do la chiave ecco o molto 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 bene simone dai vieni qua te prima che ti do la chiave simonetta sei forte tu e tu perché hai fatto due segni ecco si sono un gizionino così tutti capellini eh no no già ci hanno provato un tanti in sto gioco e voglio sei il primo penso e voglio andare di là e simonetta e ci credo simonetta ma cammina cammina che c'ho fretta che mi aspetto delle ragazze simonetta mi chiamo io oh ascolta neanche mi vorrei far girare i zibidei no e che ti pensi che io non ti vedo trasparenza e allora che e vedi infatti se vedi ho fatto la vaginoplastica l'hanno messo per dentro cazzarola è vero si gira da quell'altra parte c'era quell'altra con un coso lungo così fuori maria ma che ha combinato mario ma che mare pam due stati le salve tu guarda che casino quello c'ha l'utero c'ha tutto e quel pezzo di che non so sa di che attaccato fuori st'altra non c'ha niente tranne un buco e il mio la infica per nero porca boia e dove li mando ma chissà ma ma se mando le lulila come la chiama ma questi la tirano fuori subito lo riempono con c'hanno tutto dentro capire lo riempono con un po' di chissà che e poi come passa la porta come passa la porta la reception arriva il primo medico il medico gaiardo e ti vede a trovare il buscino al chiuso una mollichina e adana cucita così dal caponato e siamo al posto ma tu guarda tanto bene oggi ma questa è stata quella disgrazia benissimo sei 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 adesso sentimo eh dream 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 pronto pronto ciao senti sì no guarda ascolta non è serata e abbi pazienza no ascolta fermo luci bono fammi capire una cosa ma da te viene qualcuno qualcuna così che hanno fatto la vagino qualcosa e la vaginoplastica ma amico non me lo dici scusa e vabbè che te devo di tutto ho capito ma ce n'è molti molti ma tu ne hai c'ho una fila che tu ne hai idea ho capito qual è il problema e certo voi e gli alberghi e le cose e tata e certo e no 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 io ho fatto la porta lei vu dentro frega niente maschi femmine quelle quell'altro si frega putri apro pu pa pu chiudo finito fate come volete lassù degli alberghi pluff e io chiudo il telefono non faccio pietro una furia molto va bene niente chiamo il capo chiamo il capo chiamo il capo chiamo il capo e che che chiamo il capo 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 zero sentire come sei cazzo dream 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 capo dai dream capo dai dream no ciao oggi è sabato questo ma gioca a poker con giove maschiale canibia più all'ascensore più all'ascensore quell'emergenziale capo l'ascensore più se fionda su in onza con le porte dentro a casa dei mario chiaro sì c'era mario al telefono cellulare giove sì te vedo te vedo sto arrivato sì giochiamo a poker sì giochiamo no 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 i pianeti no già te l'ho detto no no si giochiamo le galassie le galassie si chiama anche da quell'altra matta come si chiama lì netto e poi cosa lì come si chiama lì dai che non mi viene cosa lì la tipa quella matta la circe è quella sì sì giochiamo negli altri quattro ok sì no a ri no te vedo te vedo appunto non tira i fulmini te vedo calmo arrivo sto arrivando cinque minuti è arrivato pietro c'è un problemino lo risolvo lì 5 minuti 5 minuti terrestri sì 5 minuti terrestri va bene sì pietro che c'è è un problema che è successo hai da venire giù per favore vieni giù per favore c'ho anche fretta c'ho fretta anch'io c'ho delle ragazzine che mi aspettano sapessi sì sì ho capito vabbè vediamo che sarà sto problema sarà sto problema si riapro le porte stedi stato di sale lei ancora con la mia lei con questa minigonnina dritta così Mario guardi qua guarda di là ma pietro che problema c'è scusa ma ancora ne ho imparato le femminucce vanno sull'alberghino rosa i maschietti vanno sull'alberghino celeste come sempre difficile ma come gli maschietti allora guardiamo sull'archivio va bene chi ci abbiamo stasera capo forza che c'è scritto sull'archivio chi doveva arrivare alle 7 doveva arrivare simone e maria come chi è simone simone quello col siccia simone simone è quella e si chiama simonetta ma tu scherzi e che non combinato capirei capito gli fa sciù sciù che non è il segno della cosa è uno scanner fu fu anche una scannerizzazione totale altro che tac porcaccia di quella porcaccia che non è altro ma questa è l'opera del matto su no si l'ho chiamato e che ti ha detto che ce n'è la fila la fila una fila lui sta buttati dentro non so sa quanto sono anni e anni e anni che li butta dentro insomma arrivati e non sei primi due e già qui non arriva più quasi nessuno porca mischi disastro e adesso che facciamo vabbè ma ma aspetta già mi già ti rifugno no è un disastro è già bravo perché se quella la metti di là questo metti di qua tu e te rendi contro la sola ma che scherzi ma che scherzi non si può fare non si può fare buono calma 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 ci vuole un po di tempo dobbiamo fare altri due alberghi giusto e beh direi di sì perfetto faremo due altre alberghi qual è il problema ci vuole un po di tempo sono grandi ci vuole un po di tempo calma però adesso tu dopo che fa quel che devi fare io pure eccetera adesso ci diamo un po di tempo tempo nostro tempo loro tre quattro mesi cinque tenendo calmi due tre mesi anche se ma adesso marzo sì 2020 sì bene bene calma alle di una robina che stai fa niente come niente no no ti metto corona che metti corone in corone la sentire cosa cosa senti a casa sentito adesso stanno tutti a casa tranquillo questi che hanno fatto il self stanno tutti a casa nessuno succede niente morsi qualche vecchiarelle qualche fiocco non fanno tutti questi casini tranquillo se ne arrivano su tre o quattro li metti nella sala aspetta tattatatata tutte state le sale per venire le mette tutte in fila per venire le festrate fa come ti pare tanto ne vengono su pochi da retta pochi in genere pochi quindi di questo genere ancora meno e noi ci abbiamo il tempo due tre mesi quattro di fare i nostri belli alberghi va bene e sembra tutto a posto io vuoi giocare a poker tu vuoi con le ragazzette non ti preoccupare tutti a casa tutti a casa